Roberto Rossi, squadra delle driver. Allora, altra esperienza cattolica? Altra esperienza cattolica, terzo anno consecutivo. Consecutivo, vuol dire che soddisfatti? Sempre soddisfatti, un po' matti ma soddisfatti. Quello ci sta, lo spirito di questo weekend ci sta anche quello. L'obiettivo di quest'anno? Vincere, abbiamo una partita in meno e secondo me la vinciamo quest'anno. E divertirsi? E divertirsi, la prima cosa è divertirsi, sempre. Prossimi tornei in vista? Prossimi tornei in vista? Noi giochiamo a Novara, noi siamo una squadratta novarese a Cameri, facciamo sempre tutti i tornei. Magari torniamo anche a luglio. Sarebbe sicuramente un piacere per noi avervi ancora in nostra compagnia. E' bello, bello. Sportland, organizzare i tornei. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Marco Giannini, ciao. Torquateste, terzo anno con noi. Questo è il tempo. Esatto. Sempre contatissimi anche quest'anno? Sì, anche quest'anno. Ma torneo splendido, noi ci piace sempre venire al mare e fare questo torneo. Non abbiamo mai vinto la competizione, però ci piace, veniamo sempre volentieri. Tre giorni molto belli. Di divertimento, relax, qualche calcio ci sta. Sì, tutto l'insieme, tutto molto bello. Questo sfide di stasera? Questo sfide di stasera si vince, non ci sono problemi. Ti vedo vintissimi, siamo allenati bene. Concentratissimi. Siamo molto concentrati. Grazie mille, buona partita. Ciao. Io vi auguro buon divertimento. Va bene, va bene Chico, va bene. Noi stiamo finendo il campionato invernale, noi siamo in pre-off. Ah, a 5? Sì. Ma giocate qua o al chiuso? Qui, qui. Ah, così? Buono, buono, dietro! Acqua, freddo, nero.